Dopo aver vinto il premio Caglianiello, la medaglia d'oro alle Olimpiadi Nazionali di Fisica a Senigallia e la medaglia di bronze, ossia alle Olimpiadi Europeo e di Riga, che a quelle internazionali di Tel Aviv, Mattia Rundine di Agropoli viene insegnito con un altro riconoscimento grazie ai suoi risultati nell'ambito della fisica. Infatti, il giovane agropolese è stato selezionato per partecipare al progetto I Fori Classe della Scuola, un'iniziativa del Ministero dell'Istruzione che mira valorizzare i giovani talenti italiani. Mattia parteciperà ad un esclusivo campus di educazione finanziaria organizzato dal Museo del Risparmio di Torino e dall'Università Carlo Cattaneo di Varese. Inoltre, Mattia verrà premiato anche con una borsa di studio. Non si ferma dunque l'ascesa del giovane campione cilentano della fisica.